buongiorno 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 i'm american italian franco vettura autosalone franco vettura car ma 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 spencer i want a car car vuoi in macchina voglio macchina vuoi dare pipì comprare comprare adesso ti faccio vedere qui ti faccio vedere 600 600 euro no 600 euro 600 600 a car questa questa macchina italia fiat italia faccio vedere novità pacchetto pioggia pacchetto pioggia in questa macchina no foggia più america to america io foggia questo pacchetto pioggia pioggia si vedi ombrello per pioggia pacchetto pioggia e chi vuoi vieni faccio vedere ok how much this vedi ombrello per pioggia rain i'm singing in the rain in the rain Ma tu devi comprare il macchino a balare! Com'è questa? 4.500 euro Oh! Non ce la vedete questa? Questa? Citroen Citroen? Citroen? Citroen! Francia! America! America Dolce e Gabbana No banana, Dolce e Gabbana Capito? questa macchina Dolce e Gabbana prodotto, production numero 69 perché perché piace a Dolce e Gabbana 69 è 69 69 signore ma te che è successo? sono da un'occhiata Alfredo, ma c'è un Diego da un'occhiata voglio vedere una macchina Alfredo, pensaci tu per favore signore Alfredo, di là Alfredo, vieni per favore signore ah Mr. Mike poi c'è 206 euro 22 americano brutto americano io ho comprato ieri mia macchina questa 1000 euro ma c'è la mia macchina rubarmi la macchina Alfredo, Alfredo lascia stare il cieco vieni dai un cieco su una macchina dai per favore fuck you Ashlock spai sorry non so macchina io ho un Alfredo it's impossible Ashlock questa anche una epoca oh wonderful fiat 127 127 euro no 127 euro bella azzurro pecorino questo ha fatto film pecorino no pecorino eh lei sempre hardcore pecorino non so pecorino i like pecorino ma però questa macchina ha fatto giovanna coscialunga macchina di cast cinema giovanna coscialunga come on ma perchè questa macchina ruota di bici non è ruota di bici bicycle no no bicycle questa macchina questa è epoca ruggine 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 questa oh no questa è 1981 81 81 questa resistente 69 69 pecorino pecorino no vanda come no vanda pecorino no vanda yeah questo è fatto con carrozza caramato questo è un motore di ferro tutto ferro qui ok bella eh mister mike ehm ehm how much mini dollar milion dollar no no i am i i take euro euro? euro mille e cinquecent euro mille e cinquecent euro con chiavi in mano facciamo mille euro no facciamo mille euro mille euro ma fa mille euro facciamo mille euro questa è la cattatilla di Napola non scurnacchiate capo vedevo incidente questa è un ammaccatore incidente un piccione col becchio da casa è pure un uomo Napola dai ma che si ha freddo abbiamo venduto la macchina è un uomo signore mille euro Caterina autosalone Franco Vetturo con la tua auto suono e suono i luoghi i luoghi i luoghi ai suono i luoghi e